Quattro ore di sciopero in tutta Italia, anche a Terni partecipiamo allo sciopero nazionale per riaprire la discussione sul contratto nazionale. Per noi è inaccettabile che la categoria più grande dell'industria non abbia un contratto nazionale per i lavoratori, è inaccettabile che non ci siano aumenti salariali per tutti i lavoratori, è inaccettabile che attraverso il contratto chi rappresenta le imprese vuole indebolire sempre di più i diritti e le tutele delle persone che lavorano nelle imprese stesse. Oggi è una prima iniziativa nazionale unitaria dei metalmeccanici, se non ci saranno risposte su questo come categoria dei metalmeccanici sappiamo e abbiamo già detto che andremo avanti perché mai come oggi è importante un contratto nazionale che tuteli dal punto di vista salariale e normativo i lavoratori di questo settore. Siamo qua questa mattina per confermare lo sciopero per il rinnovo del contratto nazionale che secondo noi Convindustria non si rende conto di come la situazione sta cambiando nelle fabbriche e che il nostro contratto nazionale è un contratto che tiene in equilibrio sia la parte salariale sia la parte sociale. Per questo vogliamo fare, come in tutta Italia, una manifestazione per rimuovere alcuni ostacoli da Convindustria. Rispetto a questa manifestazione abbiamo ritrovato l'unità sindacale con Fiume Fiume Film che credo sia la cosa più importante in questo momento e in un momento particolare del Paese. credo l'unità sindacale è la responsabilità di tutti i lavoratori metalmeccanici.